Sindaco, una maggioranza sull'orlo di una crisi di nervi. Ieri sera, subito dopo il Consiglio Comunale che è saltato, vi siete incontrati. Che cosa vi siete detti? Siete arrivati a una qualche possibile soluzione? Innanzitutto è caldo. È come in tutte le vicende che riveste un calore eccessivo, va in tilt qualche meccanismo. Il mio compito è quello di trovare le soluzioni affinché la macchina possa riprendere in maniera spedita, se ci sono le condizioni. Ma alcuni consiglieri di maggioranza hanno chiesto di aprire la crisi? Sì, è stata chiesta di aprire la crisi, però naturalmente bisogna capire dove si può arrivare. Perché ci sono tante versioni delle possibili crisi, la crisi può fare anche anticipatamente mandare a casa la maggioranza. Quindi naturalmente ci sono scenari diversi dove bisogna calcolare che cosa produce la crisi e che cosa si vuole ottenere, tra virgolette, dal punto di vista programmatico, dalla crisi. Lei pensa di riuscire in qualche maniera a compattare la maggioranza fino a fine mandato oppure effettivamente metterà in pratica il discorso tutti a casa? Innanzitutto io sono elemento di garanzia della città, dei cittadini, e quindi mi pongo in quelle condizioni di trasparenza per far capire alla città quello che accade e che può accadere. Poi la mia volontà è secondaria, la mia volontà è sicuramente registrare quello che si può ottenere dal punto di vista dei programmi per questo fine consigliatura, facendo un'analisi delle cose che sono state fatte e di quello che si andrà a realizzare. Quindi il resto poi dipende dalla responsabilità di ognuno, capire qual è il momento, lo scenario e quant'altro. Il resto sono poche cose, c'è da capire soltanto che cosa si vuole fare. 8 mesi, 7 mesi, 6 mesi di lavoro, a che cosa servono? Se si capisce questo si arriva a compimento, se non si capisce questo è bene andare in vacanza tutti quanti.